Dopo la sparatoria di ieri a Palazzo Chigi, lei ha dichiarato il vero problema è che in questo momento ci sono alcuni milioni di italiani che pensano peccato che non abbia fatto secco un ministro. Queste parole hanno sollevato polemiche, se ne è discusso anche oggi in Consiglio Comunale a Torino. Pentito di averle dette Vittorio Bertola? No, pentito no, perché credo che si debba andare oltre alla doverosa solidarietà e condanna della violenza e cominciare a chiederci che clima c'è nel paese. Se non cominciamo veramente a dare risposte alle persone disperate, che poi possono arrivare, magari in qualche caso a compiere gesti come questo, non andremo da nessuna parte. Ecco, però il sindaco Fassino, interpretando il pensiero di molti, ha anche detto che la disperazione non può giustificare la violenza. E molti le hanno detto che sarebbe stato meglio chiedere scusa. Ma bastava leggere quello che ho scritto perché è chiaro che io non ho giustificato niente, anzi io ho sollevato come un problema il clima che c'è. Però, appunto, se non si riesce a cambiare questo clima, non si riescono ad affrontare, a dare risposte alle persone che hanno perso la casa e il lavoro e quindi possono arrivare a impazzire, a compiere gesti di questo genere, non credo che si riesca ad andare avanti. Penso che il vero problema sia che la politica dovrebbe cominciare ad affrontare seriamente i problemi economici del paese. Ma la politica può continuare a parlare e a usare parole violente? Possiamo anche cercare di non usare, ma non sono le parole violente che creano il clima, è veramente la disperazione, perché se no è vent'anni che ci sono partiti i movimenti che usano parole anche molto più violente e eversive di quelle che abbia mai potuto dire il Movimento 5 Stelle in qualche caso. Però non si è mai arrivato a questo punto. Se si è arrivato a questo punto è perché c'è bisogno di affrontare veramente la crisi in tutti i suoi aspetti e non dare risposte come l'unica che è stata data, cioè rafforziamo le scorte ai politici. Grazie.